La splendida cornice di Villa Paris di Roseto degli Abruzzi ospiterà fino al 3 settembre prossimo. La seconda edizione di Art in Act mostra d'arte immagine che tratta il senso del 2 con l'esposizione delle opere dello scultore di Castelli Giancarlo Ciannella e del fotografo naturalista teatino Umberto Lasorda. Una mostra che con aspetti diversi evidenzia il profondo amore dei due autori verso la propria terra. Se da una parte Ciannella mette in atto un dialogo interrogativo interiore, intimo e personale con la materia primaria arcaica della sua regione, dall'altra Lasorda ricorre alle immagini della ricchezza contenuta nella natura per illustrare le bellezze del nostro Abruzzo. L'opera deve dare un messaggio, non deve essere solo un fatto estetico, altrimenti diventa decorazione e basta. Nel lavoro mio c'è sempre questo ricordo, un po' di un'archeologia sognata, insomma, quindi lavori che affiorano dalla memoria, insomma, tipo gli strumenti primitivi o tutto questo lavoro sembra che affiori proprio dalla nostra memoria. Entrambi lavoriamo con la natura, con gli elementi basilari della natura. Diciamo che lui manipola quello che è poi un elemento strettamente naturalistico e io invece ci metto la visione, una visione fotografica. Spesso noi guardiamo la foto e si dicono, vabbè, è una fotografia. In realtà c'è ricerca, c'è studio, anche perché cerco il più possibile di non danneggiare le specie che fotografo, perché è facile far danni con esseri così piccoli.